Abbiamo portato il funzionario in maniera diversa, vi conoscete dal punto di vista personale, forse si conosciamo da quando avevo 20 anni, non avrei altri motivi per dirgli che vi stiamo prendendo in giro per la sua bocca. Ci sono alcune procedure che dobbiamo seguire, che abbiamo deciso come fare, adesso si stanno vedendo i legali del sindacato con il legale del lato, con l'Avvocato Stanizzi, stanno completando tutta la decisione che è stata contata entro stasera, domani mattina avremo questi atti in precezzi formali che devono essere fatti, era l'ultimo passaggio perché c'era una restrizzione tra i precedenti atti e quelli invece che si diceva lato che devono essere fatti ulteriori, che chiederanno in tempi normali, in condizioni normali un tempo massimo di 10 giorni, ma siccome c'è l'urgenza andremo subito dopo, l'abbiamo confrontato così, dal Presidente del Tribunale per farsi l'urgenza, questo significa che in tempi straordinari in 3 giorni possiamo risolvere il potere, noi ci siamo aggiornati per avere tempo al venerdì alle 11 e mezza, ma siamo convinti, sono convinti che noi venerdì alle 12 e mezza saremo nelle condizioni di potervi dare risposte con te, per direttore dell'azienda è questa, fatti i precezzi, stasera stesso passano le lettere ai comuni, abbiamo anche ipotizzato che i comuni non verseranno le soldi, perché il problema poi è di avere i soldi liquidi in mano, abbiamo anche ipotizzato che ci sarà qualche comune che ne facciamo non mettere i soldi, allora vista la disponibilità del sindaco della media che ha dichiarato sulla stampa, noi abbiamo anche ipotizzato un'altra cosa con il direttore dell'azienda dell'azienda, che il comune della media versi, la quattra parte che gli spezza nella ripartizione vostra degli stipendi che imparano a 94 mila euro, in più la restante somma che comunque deve pagare all'azienda per il 2007, con quelli noi recuperiamo i 186 mila euro che possiamo consegnare direttamente per fare le vostre spessante e io mi rispetto a non sono venuto ieri perché non volevo nemmeno venire stasera, perché da ieri che sto lavorando c'è questa cosa, ho sentito i tecnici, ho sentito i delegali, oggi ho convocato sempre più delegati del Presidente perché come voi ben sapete, io e però sì sono in strada l'ambiente però la Presidente all'azienda tocca per legge la presenza della partecipazione, insomma se vi dico perché l'ho sostituisco in questo caso e ho convocato proprio le rappresentazioni.